Il Resin Fissi prima di tutto si occupa di finestre, tutto quello che è l'esterno della casa, quindi dalle finestre alle persiane, alle zanzariere, ai portoncini, alle pensiline, alle vetrine come abbiamo qui, l'abbiamo montata adesso una nuova vetrina tutta cristallo, diciamo che è tutto quello che fa parte della parte esterna, quindi finestre e tutto il resto. Oggi 21 maggio inauguriamo questo punto di esposizione che lo apriamo per tutti coloro che magari avevano più difficoltà ad arrivare in via degli abeti, sia per l'automobile che chi poteva e chi non poteva e quindi abbiamo aperto questo piccolo punto di esposizione dove cerchiamo di far vedere e di far toccare con mano il prodotto, visto che ultimamente è sempre migliore fare toccare proprio il prodotto anche a chiunque debba comunque acquistarlo e lo apriremo a giorni alterni perché comunque il nostro polo principale è sempre in via degli abeti dove lì logicamente abbiamo più prodotti, più materiali. Da martedì abbiamo messo qui degli orari, facciamo degli orari alternati e ci trovate qui. Entrando un po' nel vivo della produzione vorrei sapere se magari ci sono delle offerte o delle agevolazioni al momento per la clientela. Ecco da un po' di anni c'è il 110 e il 50, è sconti in fattura praticamente. Per noi il lavoro è stato raddoppiato perché non avendo questa possibilità di avere il 50% la gente è un po' più restia a fare i lavori mentre invece uno quando lo Stato ti dà l'opportunità di avere un 50% oppure il 110 tramite l'impresa quindi per una famiglia è l'ideale insomma è che se il lavoro per quel motivo lì è raddoppiato.